Musica Si avvicina la data della festa della donna, l'8 marzo, giorno in cui milioni di italiani si recheranno presso il proprio fioraio vivaista di fiducia per regalare la pianta più apprezzata di questa ricorrenza, la mimosa, la caccia di albata, questo è il nome scientifico. È un fiore elegante ma allo stesso tempo semplice e grazioso, simbolo di femminilità e libertà, peculiarità che ben si sposano con il significato più profondo di questa giornata, dedicata alle 129 lavoratrici new yorkesi che morirono per rivendicare i propri diritti a causa di un incendio mentre cercavano di migliorare la propria condizione di vita. La mimosa appartiene alla famiglia delle casce, è un albero che si presenta con un buon sviluppo, va esposto a sud e non va messo troppo vicino alle abitazioni perché è una pianta che a livello radicale oppure magari con forti ventate è tutto, può cadere anche addosso all'abitazione. Poi è una pianta che fiorisce da febbraio, marzo, anche aprilio, a seconda della stagione. Non ama le forti gelate. In questo anomalo inverno, ormai gli sgoccioli, la natura si è risvegliata con grosso anticipo per via delle temperature miti ben al di sopra delle medie stagionali. Ciò ha messo a dura prova i fioricoltori che, sollecitati dall'allarme di Coldiretti dello scorso gennaio, hanno dovuto agire per tempo affinché questo bellissimo fiore di colore giallo paglierino potesse sopravvivere ai primi mesi di marzo. Abbiamo chiesto al nostro esperto dell'ucidazione in proposito. È una pianta che, diciamo, come fioritura è anche prolungata, se rimane un tempo, diciamo, accettabile. Ora, quest'anno, per dire, è stata un'altra stagione un po' particolare. La fioritura è andata da, diciamo, ha cominciato a fiorire a febbraio, metà febbraio, è tuttora fiorita e sicuramente fra una quindicina di giorni comincerà a sfiorire. Di solito, qui da noi, la pianta fiorisce sempre verso fine marzo addirittura, neanche per la festa della donna. La mimosa è senza dubbio il fiore più amato di questa ricorrenza dedicata alle donne. Pensate che nel 2015, da un'indagine prodotta da Coldiretti, è emerso che un italiano su quattro nel giorno della ricorrenza ne ha regalata una. In questi giorni le piante di mimosa popoleranno le nostre case, soprattutto i fiori recisi. Ecco, quali sono i suggerimenti per i nostri telespettatori affinché queste piante restino belle e vivi a lungo? Allora, il fiore reciso, niente, per mantenerlo va tenuto in un posto chiuso al buio e, diciamo, è chiuso in un cellophane, in una carta, non gli fa prendere troppo umidità. Nelle abitazioni, una volta regalata, va tenuta a bagno un po', però chiaramente la durata non sarà molto elevata, a causa anche proprio l'esposizione e tutto, perché come fiore reciso non si presenta la mimosa. Ecco, non è proprio un fiore reciso, è bello per il periodo, però come fiore reciso non è tanto adatto. Ecco, la durata è minima, anche a seconda delle abitazioni, delle esposizioni e tante cose, però diciamo che lo regali, è bello il giorno, due o tre giorni rimane bello, poi tende ad appassire il fiore normale. Per quanto riguarda il fiore reciso, in quale luogo ci consiglia di posizionare la mimosa all'interno delle nostre abitazioni? Sempre nel cellofan e, secondo me, quando c'è troppo caldo, anche lì non va troppo bene. Ecco, una temperatura fresca, non troppo calda. Quindi, diciamo, non vicino alle fonti di calore? No, assolutamente. Signor Caprilli, quali sono le principali indicazioni per quanto riguarda l'innaffiatura? Piantata in terra, dato che sta un'esposizione a sud, nei primi anni, diciamo, il primo anno, due anni, è bene cercare di irrigarla il più possibile nei periodi estivi, con maggiore caldo e con maggiore siccità. Dopo, per il resto, una volta che le radici sono, che la pianta è partita, che le radici hanno attecchito bene, non necessita di troppe innaffiature, ecco, va da sé e cresce molto veloce. Grazie.